Vicino Castel Sant'Angelo un piccione attraversa la strada, attraversa a piedi, questo non stupirebbe più di tanto, nella capitale molti piccioni ormai hanno rinunciato a volare preferendo la vita più coerentemente romana del pedone. Questo piccione però sembra avere un andamento particolarmente consolidato e sicuro, cammina dritto, fiero, petto in fuori, come un notabile d'altri tempi che esibisce l'abito su misura fresco di sartoria e attraversa sulle strisce, poi si ferma in mezzo alla carreggiata e si volta nella mia direzione. Io devo proprio inchiodare per non prenderlo. Su atteggiamento sembra esprimere un orgoglio che rasenta la spocchia e di fronte a me non si muove. Lo capisco subito, è un piccione sovranista. Se ne sbatte che vado di fretta, mi ha inquadrato, sono un radical chic del cazzo, non è il mio momento storico, è il suo momento, io devo aspettare. Le due tre macchine dietro di me danno i primi colpetti di claxon. Non capiscono la mia sosta perché non vedono il piccione, ma io sì, io lo vedo e lo guardo e lui pure mi guarda con una fissità che inizia a innervosirmi perché ha il sapore dell'affronto. Potrei mettere la prima e partire alla romana se te dogli bene se no da roto, ma non lo faccio perché sono democratico, lui è sulle strisce e per giunta è un avversario politico e io sono pronto a morire perché lui possa continuare a esprimere le sue opinioni. La fila dietro di me, vedo da lo specchietto, aumenta e così anche il coro di claxon a cui si aggiungono le prime proteste. Allora abbasso il finestrino e gli parlo. Te dogli? Devo passare? Ho una riunione. Ma il piccione non si muove. Non credo lo disturbi il tu. Credo non sopporti proprio la mia figura. Uno sceneggiatore col Freelander 2, la categoria peggiore, il benpensante e benestante. Ha i suoi occhi il male assoluto. Ebbene sì, sono un radical chic, va bene? Lo anticipo. Credo nella pubblica istruzione, credo nei pubblici ospedali, credo nella cultura, credo nei diritti per tutti, in una società multiculturale, in una giusta progressione fiscale. Ma mi piace anche bere vini di qualità e se capita perché no anche champagne e ho una casa in campagna. Hai qualche problema? piccione non replica. Si dà un'impercettibile assestata vagamente marziale. O vogliamo ricominciare con la storia di Occhetto che era comunista con le rose in giardino a Cavalvio. Ma lui niente, fa il superiore e in ogni caso non si muove. A stronzo, mi urla ormai apertamente la conducente dalla punto dietro a me. La tensione sale, ma al piccione non importa, non ha paura di niente. È cambiata l'aria, sembra dire. Finita la pacchia. Io sono sempre più nervoso. E anche, gli grido, se sono a tutti gli effetti un privilegiato, rivendico il mio diritto a difendere le minoranze. Quello fermo, imperturbabile. E anche se vivo in un bel quartiere e non sono a stretto contatto con Roma e senza detto, rivendico il diritto a difenderli e a indignarmi di fronte a ogni forma di razzismo. Lavorare e guadagnare bene non può impedirmi di pensare ciò che voglio e tu dovresti essere pronto a morire perché io possa esprimere il mio pensiero. Il piccione non si muove, non dice niente. E allora io infilo la prima e parto. Lui non schioda, ma non ha paura. Mi fermo a pochi millimetri da lui per non schiacciarlo. Sono fuori di me. I clacson nella via ormai impazzano. Non mi era mai capitato di essere insultato da tante persone tutte insieme, ma scendo e affronto il piccione. Io me ne frego dei proclami e delle promesse fatte a cazzo e senza coperture e le flat tax. È il Mediterraneo che mi fa veramente incazzare, che mi fa sentire impotente e disarmato. Che la gente muoie in mare e voi ve ne sbattete, ma non provate un briciolo di umana compassione. E il piccione neanche si gira a guardarmi. Fissa la targa sporca di fango della campagna del Radicashic. Amaremma, sembra pensare indignato. Non è l'amaremma, cazzo! È la tuscia! Urlo indemoniato. Chino su di lui per terra, i pantaloni sporchi, gli occhi inettati di sangue. E solo allora mi accorgo che intorno a me c'è un capannello di passanti che mi fissa spigottito. Ok, ok, dico a tutti, abbiamo fatto degli errori. Abbiamo pensato solo ai conti, trascurando i sentimenti profondi di una società frustrata e infelice. Ci siamo appiattiti su una politica di austerity senza mai discuterla davvero. e i leader del centro-sinistra sono stati imbarazzanti. Ma abbiamo pagato con le scorse elezioni e io ora pretendo... Il piccione si volta lentamente verso di me, togliendomi la parola. Mi guarda negli occhi e mi sembra di leggere in quello sguardo una nota di benevolenza, quasi di tenerezza. E questo è troppo. Mi alzo, batto forte un piede a terra per scacciarlo, ma lui torna indifferente a guardare dritto di fronte a sé. Dietro di me è una fila ormai interminabile di ferocia urlante, ma io non sento più nulla, tranne una forte spinta che mi fa cadere a terra e battere la testa. È un signore, fuori di sé, che mi urla contro e mi dà del fascista testa di cazzo col fuoristrada e dice che ci siamo presi la città, abbiamo rotto il cazzo e mi comincia a prendere a calci. Io sento solo il dolore alle costole, non riesco a replicare né a spiegarmi. Apro gli occhi e il piccione non c'è più. Sono nato nel 72. Sono un elettore di sinistra e la mia vita di elettore è sempre stata tormentata e infelice. Questa sciagura è bilanciata da una vita molto fortunata. Faccio un bellissimo lavoro, ho famiglia e amici stupendi, un buon carattere. Ho fatto due figli, scritto libri, piantato alberi e se morissi domani non si potrebbe dire che è una vita buttata. Questo fa sì che il mio umore sia generalmente buono. O comunque lo era mercoledì, quando in macchina, pure in ritardo a una riunione, ho visto uno strano piccione. Un grande applauso a Valerio Crea, che ha letto il piccione salviniano di Mattia Torre. Allora, Valerio, hai letto come abbiamo fatto già altre volte, insomma da quando frequenti questo palco, è con noi, ma lo fai da tanto tempo, un testo di Mattia Torre, tratto dal libro che ha in mano Marco, che si intitola... A questo poi ci pensiamo. Ok. Di cosa si tratta, Valerio? Sono dei suoi monologhi, dei suoi scritti? Ma sì, è come dire, una raccolta di tutto quello che è uscito fuori dai suoi harddisc. dopo, e che in questi due anni abbiamo così preso in mano, e tra l'altro dai quali harddisc sono usciti fuori da alcuni pezzi che avevo fatto qui l'anno scorso, all'inizio, e tutti gli altri che abbiamo trovato, e che sono alcuni incompleti, alcuni non conclusi, incompiuti o anche invece compiuti e mai... era una cosa che lui si appizzava. Si metteva da parte. Si metteva da parte. Dice poi, a questo poi ci pensiamo. A questo poi ci pensiamo poi allude pure a un sms che lui si scambiò con Paolo Calabresi, invitandolo a cena, dicendo venite a cena eccetera, sì sì ok, prendiamo una bottiglia che poi brindiamo, ma a che cosa? A questo poi ci pensiamo. Mi sembra l'approccio migliore. Grazie Valerio e grazie a Mattia.